E salve a tutti i miei, ci sono sempre Gagold e benvenuti in questo nuovo episodio di Vintage Story Dunque gente, cominciamo subito Oggi ho alcune notizie da darvi ma nulla di particolarmente diverso rispetto allo scorso episodio Dunque, ho raccolto i primi 10 di cuoio che erano delle pelli messe qua dentro Ora qua dentro teoricamente ci dovrebbe andare un po' di soluzione di tannino debole Che andiamo a fare subito perché ho della pelle raschiata, questa qua che deve andare qua dentro Ma questo qua non è un problema I materiali che ho raccolto la scorsa volta nella spedizione sono già stati sistemati E dovremmo effettivamente formarli in qualcosa Ma quello lì, ripeto, non è un problema Quello che devo fare adesso è effettivamente preparare questa soluzione e mettere la pelle a lavorare Detto questo, detto questo gente Oggi rimaniamo di nuovo un po' sulla fase di esplorazione Però non andiamo troppo lontano Perché, non so se ve l'avevo già detto lo scorso episodio Praticamente voglio esplorare quella zona dove sono caduto e morto Nello scorso episodio Ed è qua vicino, di fatto Il problema è che mi pare di capire che quella sia una intricatissima rete di caverne E questo potrebbe essere un problema Perché andando in profondità ci sono i drifter più cattivi Però, cioè, me l'accollo Me l'accollo perché giustamente bisogna farlo Ho fatto una boiata C'è qualcosa qua dentro? Perfetto, emergenza rientrata Ho sistemato tutto Non mi ricordo nemmeno cosa stavo dicendo Davvero, non mi ricordo, aiuto Comunque, adesso facciamo la soluzione di tannino debole Poi ci mettiamo dentro la pelle raschiata Così quella procede I materiali sono qua dentro Oggi esploriamo la sotto Che però, appunto, è una rete di caverne Bastanza importante E quindi vorrei Vorrei esplorarla per bene prima di tutto Però devo stare parecchio attento Ora, con il cuoio che abbiamo raccolto Ci ripariamo il nostro farsetto Questo qua E a tal proposito vorrei vedere effettivamente quanto me lo ripari Boia Sette Ok E via, ce lo siamo Ce lo siamo giocato tutto Però dai, non male Non male Non male Ah, fantastico Non male Ce l'avevo giusto giusto Non so cosa stia succedendo Chi ci sia nascosto da qualche parte qua dentro Ma va bene È l'8 di febbraio Quindi vediamo se magari oggi riusciamo ad avvicinarci un po' di più Verso Marzo E in realtà non solo verso marzo Ma verso effettivamente la La primavera E sto prendendo danno da fame, sì Stiamo iniziando a raschiare un po' il fondo, eh Ok, nel mentre devo farmi parecchie torce Ovviamente non mi ricordo come si fa Sono uno stecchino e due bast... Eh, sì Un... Uno stecchino e due di... Erba Ne ho fatte un bel po' Perché dovremmo illuminare parecchio E probabilmente mi conviene fare anche un po' di piastri di equiseto Già che ci sono Ok, pasti sono pronti Adesso qualcosa me lo porto con me Ma il resto lo lascio qua sotto Tipo Queste due me le porto Queste due pure Queste quattro anche E quindi questo lo tengo giù Quindi facciamo una cosa del genere Due, quattro, due Va bene Va bene, va bene Armi ne abbiamo Lo scudo è a posto Adesso sono le 17.41 Quindi non partiamo ora Però potrebbe essere un buon momento per andare a raccogliere un po' di equiseto E fare effettivamente un po' di impiastri Ora Sono le 19.20 Aspettiamo giusto un attimo Sistemo due cose poi A dormire E si va Si va all'esplorazione Che sarà Prettamente sottoterra oggi Ho deciso di continuare un po' con la parte di esplorazione Perché Allora È intrigante il sottosuolo che c'è in vintage story Devo essere onesto E quindi vorrei effettivamente esplorarlo un attimo E dato che la scorsa volta Occidentalmente sono caduto lì e ho visto che era bella grande la zona Colgo l'occasione L'unica cosa E buongiorno Sì comunque ragazzi Ho letto meno 16 durante questa notte Un attimo illegale Qua ci siamo Devo portarmi Non La Questa qua Com'è che si chiama Iuto Non mi ricordo mai Il binocolo Che però è solo È solo uno Non me lo devo portare Ma mi devo portare queste Queste sono munizioni Perfetto E questa roba va qua Benissimo Let's go Si parte gente Si parte Let's andiamo Lasciatemi stare voi Uh c'è nebbia laggiù Ma a noi non interessa Sapete perché? Perché stiamo per scendere giù nell'abisso Prima di scendere giù nell'abisso Aiuto Mi devo prendere un po' di legnetti Perché se devo farmi delle scale Devo avere del legno Quindi è meglio averlo Prendo dell'acero Che tanto Prega niente a nessuno Dell'acero Un legno sfigatissimo Adesso tutti i supporter dell'acero Nei commenti Coli Sei una merda È giusto avere tutto il necessario Non ha senso dire È giusto averle Le scale Ok 42 scale fatte 42 scale fatte Un bastoncino Che deve volare via Adesso possiamo andare Abbiamo perso giusto mezz'ora Vai così Let's go Via Scusa un attimo Perché tu mi stai dando un attimo fastidio Perfetto Mi interessa che poi cade Siamo già giù Ecco Ecco Orca boia Che botte Che tiri Tra l'altro siete grossissimi Ok Ok Boni un attimo Perché sta cosa qua È illegalissima Io c'ho paura Che tipo Piazzo la torcia Tempo di switch Era un attimo Per accenderla C'è pieno di drifter Ok Di qua finisce Di qua finisce Va bene Se di qua finisce Io le torce Me le riprendo Perché almeno So che non Che non mi interessa Perché poi queste qua Una volta che le piazzo Ciao Sono andate Iniziano Continuano a bruciare Quindi insomma Di qua niente È fantastico Quanto quarzo Mamma mia Può mettere un'ansia A sto posto Oh Che cazzo è Un'ansia Non mi fate Sti scherzi Aia Maledetto Ascolta Che deficiente Si è preso da solo Questo è nitrato Di potassio Benissimo Ah Affangulo Che Cazzo Di colpo Ma cos'è sta cosa Ma cos'è Cacca boia Che crine Che tira Ascolta Coso Devi calmare Mica Un drifter Contaminato Questo Mena come un fabbro Rispetto assoluto Per i fabbri Sappiatelo Sì vabbè Però qua Scende Cola Non scende Cola a picco Proprio Chi è Chi sei Da dove vieni Come ti chiami Oh Oh Questo Questo è quello Che ammina Fortissimo Ma però Mi hai rotto Le balle Aia Oh Cos'era Quella roba Lì No Torniamo subito Immediatamente Subito Immediatamente Bisogna arrivare Al quarzo Una volta arrivati Al quarzo Poi si prendeva La prima a destra Si pagava Il casello E boom Sei arrivato Esatto Ecco qua Ma poi non ho fatto Mica tutta sta strada Veloci Prendi tutta la roba Prendi tutta la roba Prendi Eh E tu Da dove cazzo Sei uscito Boni 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 un attimo Tutti Ho ripreso Tutto Ho ripreso Tutto Devo farmi un campo Base Ma sono un pollo Cioè Io sono passato Ci sono saltato Sopra Sta cosa Non l'ho manco Vista Boni però Un attimo Perché c'ho le cose A caso Tu cosa sei Cosa sei tu Cosa sei tu Prima di tutto La burna La burna La burna è la fine Del mondo Bianca Così Lampadario Poi Ma che Stiamo scherzando Sono bellissimi E io voglio capire Sta cosa qua Se posso No allora Sapete cosa Sapete cosa Io questa La voglio restaurare Questa Crypto Qua Io la voglio Restaurare Me la Segn Non c'è bisogno Di segnarsela Sapete Cosa ci faccio Supporto Per torcia Invecchiato Bon Così me la ricordo E soprattutto vedo Io questa Qua La voglio Restaurare Strato Di muffa E ossidazione Mamma mia E questa Sarà una cripta Non voglio Toccarla Vi giuro Sperando che sotto Non ci sia nulla Di importante Perché sennò Mi rosico Fortissimo Perdonimi Però E te Vai qua Dove T'ho preso Amulito La mercante Hanno scelto Una lotta Diversa Chissà se qualcuno Di loro È sopravvissuto E questo è un pezzo Di cose Che servono Per fare Capolinea Teletrasporto Base Ritorno Teletrasporto Un teletrasporto Ad uso singolo Che ti riporterà Il tuo Capolinea Teletrasporto Ehi Oh e che cos'è Parte di Jonas Connettore Aperto Cupro Nickel C'è il Ker Aberram E nickel Sì Cupro Nickel Sì vabbè però C'è tutte ste parti Di Jonas Va bene allora E niente Dobbiamo tornare a combattere La nostra guerra Che è In realtà Per Non ho capito bene cosa Però è una guerra Insomma E devo capire Cos'è quella cosa Che continua a suonare Posso Ma ora che ci penso Io posso scenderci Pure da sopra Eccola lì Vediamo se spawnano Eh infatti Spawnato Eh sì però Dall'alto pure Cazzo sono ninja Non sono drifter Non mi prenderai mai vivo Infatti è capace Che mi ammazzi Per prendermi Eccolo qua Drifter contaminato Con un altro fibra Un altro fibra di lì Buonolite Morto Che cazzo c'avevi già Delle patologie pregresse Che cosa succede Oh Mi sto caricando Di ingranaggi temporali Salta maledetto Perdonatemi Però io potrei fare Tranquillamente Sta cosa Ah mannaggia C'è un drifter lì Se no io entro E mi chiudo Oh Eh sì Ho visto che ti sei Teletra sportata Non si fanno Ste cose Ma proprio no Allora Mi son mangiato Più o meno Tutti Gli impiastri Torniamo un attimo indietro Perché ho bisogno Di un'altra arma Per forza Mi hanno distrutto L'armatura Che avevo appena riparato Mia giornata è rovinata Ehm Questo mi dice tanto Sul livello Delle armature Allora Fatemi un attimo sistemare Dormo Ehm E ripartiamo in realtà Perché Io voglio esplorare Assolutamente Quella zona lì Tipo Obiettivo della vita Di oggi Di oggi Di questo episodio Nel mentre Vado subito A mettere la pelle Ehm In trattamento Qua Perfetto Falx di ferro Adesso si va a dormire E ci si rilancia L'avventura domani mattina Vai Bene Mi prendo anche Dei materiali Da costruzione Perché Paura che a un certo punto Dovrò Barricarmi Di sotto Per questo prima facevo I muri di granito Però non servono a niente Quelli Ehm Pappappappà Prendo del pietrisco Sì Andiamo 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 Mamma mia C'è una scimmia Di andare là sotto Wow Un ingranaggio temporale In più Questo c'è da riparare qualcosa Almeno possiamo farlo Vieni Tanto ormai questi Ho scoperto che non ci mancano Ah ah E mo sei rovinato Nessuno ti verrà a salvare Rottami il cilindro Melodi E la madonna Ce l'abbiamo fatta Però Bene per le casse invecchiate Qua fuori c'è un casino dell'anima Non mi interessa Ma proprio zero Ragazzi Cassa rovinata Oh E dai Ma la fa aprire Non c'era niente A quanto pare Cassa chiusa Cassa distrutta Ferro Un altro cilindro Melodia Bastone Il menite Limonite Ok Oh Belle tutte ste casse Semili farro Semili segale Un quadro Che ho già Un villaggio Ce l'ho già Il tempo di iniziare A buttare un po' di roba Serve Giustamente E soprattutto fare un po' di pulizia Tanto qua sono tutti Pezzi Cose varie Sembra manchino un paio di ingranaggi Perché Sono questi? Ah no Sono parti di metallo Eccolo qua Ah Oh Riparato Uno Due Tre Ragazzi Riparato Questo cos'è? Trivella rovinata Non mi faccio niente Via 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 Qua fuori c'è un casino dell'anima Mi interessa? Assolutamente no Sono contentissimo di sta cosa ragazzi Sono stracontento Se pure le Tutto Ma sapete che me frega Namo Prima volta che usiamo un traslocatore Via 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 Vi sono Allora Prima Prima di tutto Mi barrico un attimo Ok E così mi sento già un po' più sicuro Poi nitrato di potassio Bene Quello che non va bene è che siamo di nuovo in una zona granitica Ma ok Casse varie Che figata Via te Eccoli Sono arrivati Via il tronco Oh ragazzi Lo faccio ancora una volta e ci muoio Lo faccio ancora una volta e ci muoio Giuro Non è che lo voglia io Però succederà Allora la zona qua non è per niente sicura Io sto rischiando davvero tanto Fatemi tornare un attimo a casa Perché devo rifocillarmi Stare meglio un attimo Devo prendermi cura di me stesso Un momento Sono successe tante cose Volevo giusto arrivare in superficie di là Oh Ragazzi in superficie Mamma mia Ansia Ansia ragazzi Ansia Finito tutto l'equiseto Tutto finito Tutto Che è molto bello Questo qua sta diventando L'angolo dell'accattone Qua ci metto tutta la robetta Che non so che cos'è Però è carina È sbrillucigosa Siamo di nuovo Indirittura ad arrivo Con il cibo Ne consumiamo Un fracco e mezzo Problema che a sto giro Finito questo Finito questo Io l'ho finito proprio del tutto Il cibo E posso farmi il porridge Di porridge Niente ragazzi Io Sono riandato su Però no Sinceramente non me la sento Di scavare in là Non so Non so se è il caso Di fare Alla minecraft maniera Che si scava verso l'alto Tanto delle scale Le ho Considerate che posso fare Fino a 82 blocchi Scusate 84 blocchi Perché ho Posso metterle così Ce l'abbiamo fatta E c'è anche un mercante Signor mercante Buongiorno Ma che bella Quella Insomma Non prendi niente Di utile Ma soprattutto Hai ancora meno Quindi ciao Sei inutile Però il risonatore No porc Che ha bisogno di pescare Quando vuoi prendere Ad accettate i pesci Sì Sabbia di granito Insomma Non mi è andata proprio Non mi è proprio andata bene Speravo in un cambio drastico E invece No Però vabbè Dai Va bene È comunque una zona diversa Rispetto a dove siamo noi E andando più a sud di qua Perché fa più freddo Non capisco Il clima di questo stramaledetto gioco Non lo capisco Una margherita E Bello 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 Però Oh interessante Però Interessante Se non fosse un problema Arrivare al primo traslocatore Sarebbe Fantastico Perdersi qua Vi giuro Perdersi nel senso Esplorare Non perdersi davvero Se non muoio Anche se in realtà Vedo che bene o male Muoio ovunque Ma soprattutto È molto lontano È molto lontano E a me interessa Perché il molto lontano Significa che noi Possiamo partire Già molto più avvantaggiati Nell'esplorazione A distanza Perché davvero In un salto Letteralmente Tagliamo tantissimo Spazio Ora Peccato che Siamo tornati Comunque Siamo usciti Di nuovo In una zona Di granito Quante farfalle Però Vi dirò Mi pare di capire Che sia bene o male Bene o male La stessa La stessa zona In realtà Perché è granito È pianura Laggiù c'è un deserto Di granito Sì ok Va bene Ma nulla di Particolarmente Eclatante Vabbè Oh comunque Non ci sputo sopra È un altro punto Di inizio Da dove esplorare Noi davvero In In tempo Molto Molto più breve Riusciamo a percorrere Tantissimo spazio E arrivare direttamente In un'altra zona Poi guardate Quanto lino Che c'è Già qua Ci stiamo esponendo A una presenza Molto Molto Maggiore Di risorse Sta crollando Un'intera montagna Laggiù Una pineta Però Nel granito Eh allora no Non ci siamo ancora Il problema è questo Ragazzi Il granito Il granito Ricordate Quanti Quanti Mila blocchi Abbiamo dovuto fare Per trovare qualcosa Che fosse diverso Dal granito Eh Duemila Soltanto per arrivare La peridotite Che tra l'altro Mi fa pure schifo Ti ballo Ciao Qualcosa da commerciare Posso vendere Della roba bella Pane di riso Ok E tu mi dai Di contro Oggetti di sopravvivenza Wow Insomma Faccio anche a meno Grazie Ciao Però qua Già c'è Molta meno neve Anzi Non ce n'è proprio Questo potrebbe diventare Il nostro nuovo Avamposto Per l'estrazione Mineraria Peccato che La prima cosa che sento È rumore di drifter Ma tu sei un drifter Scemo Di quelli Di quelli un po' scemi E qua che Te po' pezzi Tutto questo Per poi Non esserci nulla Sotto E poi uno Vabbè Continua di qua Adesso Quanto sono Qua 2200 Sono 2000 blocchi Praticamente Trovi il Il gesso Quindi Cioè adesso Magari è il caso Anche di valutare Se ci si arriva Più facilmente Passando da qua O dall'altra parte Perché se di qua È tutta dritta E non ci sono problemi E si fa facilmente Magari conviene Fare Questo giro qua Piuttosto che scendere Per tutti quei Quei 1000 blocchi Dall'altra parte Io vorrei Chiudere l'episodio Però vi giuro Sto continuando a vedere cose Che mi interessano Poi però Devo iniziare a tornare indietro Perché Non ho tanto cibo E la situazione È già grama Con il cibo Anzi Prossimo episodio Voglio proprio vedere Cosa convieno Eh si Proprio una rovina Nell'acqua Eh vabbè Ma tanto Non ci posso fare niente Non ci posso andare Perché Bagnarmi adesso Significerebbe Morire di freddo E quindi niente Rimane lì Quella rovina Nell'acqua Gente io direi che Allora per questo episodio Termino qua Anche perché adesso Mi toccherà tornare Al nostro traslocatore E tornare effettivamente A casa Wow Wow perché è stata Una grandissima esplorazione E abbiamo trovato Non uno Ma ben due Nuovi obiettivi Di cui uno di questi È il restauro Della Della cripta Quella che abbiamo trovato Sotto terra Che è fantastica E mi piacerebbe Davvero tanto Restaurarla Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Di questo video E di questi nuovi obiettivi Considerate che Adesso con il traslocatore Sbloccato L'esplorazione Verso nuove terre Diventa un po' più semplice Potrebbe Essere necessario Costruire Magari anche Una Una piccola base Un avamposto Direttamente dopo il traslocatore Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Di questi episodi Io vi ringrazio Come al solito Tutti tantissimo Per avermi seguito Sono Gold E noi ci vediamo Con i prossimi video Bye bye